Buongiorno a tutti, benvenuti presso il dozio monomarca TNR Store di Milano. Mi chiamo Loda Matteo, lavoro per The Norfis, mi occupo di formazione e prodotto e tra poco vi illustrerò uno dei prodotti delle novità della collezione da trade running per The Norfis nella stagione spring 12. Il modello in questione, parliamo, si chiama Single Track 2, una scarpa da trade running concepita quindi per l'utilizzo, gara, allenamento da trade, quindi su corsa sterrato, quindi utilizzo sul campo misto, caratterizzata quindi da una suola costruita in mescola TNR che è una mescola studiata e prodotta da noi delle Norfis, dove all'interno della quale possiamo vedere nella zona della punta, questa zona attraverso la quale riusciamo a intravedere questo snake plate che è un supporto posto nella zona mediale, è conducibile qua all'interno della scarpa per dare supporto e protezione nella fase di appoggio della scarpa e allo stesso tempo rilancio la scarpa, nella zona del tallone troviamo X-tone, credo, questa struttura, questo inserto, vedete, posto X nella zona del tallone, è riconducibile qua per supportare, ammortizzare la fase di carico e di appoggio del tallone, un'intersuola tutta in eva, quindi molto molto leggera e molto molto morbida, il tutto unito e da ricondurre a una scarpa molto molto leggera, adatta a praticamente tutti i corridori che praticano tre running, si definisce non a caso per uno scartamento.